Ciao ragazzi, in questo video vedrete come realizzare un outfit in stile rock'n'roll. Come potete vedere, infatti, il trucco è piuttosto pesante. Ho deciso di fare questo smoky sui toni del nero, quindi di evidenziare gli occhi e lasciare le labbra piuttosto naturali. Ho messo un lipgloss sui toni del rosa. La cosa fondamentale per un look in perfetto stile rock'n'roll sono gli accessori. Io ho deciso di indossare questo bracciale in cuoio, che si chiude con queste due fibiette, e sull'altro braccio, questo bracciale piuttosto grande in metallo. La colana è anche questa di metallo, con queste medagliette all'interno delle pietre nere. E per quanto riguarda i vestiti, ho deciso di indossare questa camicia bianca, piuttosto lunga, taglia large, quindi sta bella, libera, morbida, abbinata a questi leggings neri attilati. E sui piedi queste scarpe nere, piuttosto alte, con tutti questi lacci che si intrecciano davanti, quindi piuttosto particolari. Infine, per completare il look, possiamo mettere degli occhiali da sole specchiati come questi, oppure possiamo optare per un capello. Io ho scelto questo borsalino nero, con questa fascia bianconera. E ora il nostro look è completo. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!